ma ragazzi ma benvenuti nella quinta puntata della taverna podcast la puntata speciale tra l'altro che tanto attendiamo da otto anni anche se c'è da manco un mese questo podcast tutti quanti l'aspettavano anche tutti quanti da otto anni la puntata sì sì da otto anni oggi si parla di cyberpunk esatto quello che che io mi ero distrutto il mio orologio biologico perché credevo che fosse la settimana scorsa questo video invece no è vero sì che abbiamo fatto quel fail assurdo però chissene ormai è andata così ma non saremo soli non saremo soli quest'oggi per la prima volta e forse anche l'unica ci sarà un ospite special guest ragazzi diamo il benvenuto a devi buonasera buonasera buongiorno insomma dipende da chi ora ci guardate ma qualsiasi ora è bene guardarci ed è mercoledì per chi ci guarda perché questo video verrà posticipato di di un giorno come cyberpunk è meglio un giorno che otto anni però allora per validi motivi comunque di connessione sta di fatto siamo tutti qui riuniti nessuno è morto che bello che va una bella notizia una bella notizia devo sistemare le cose guarda in diretta tanto che gli amore per strana nice cosa sta accadendo ragazzi oggi comunque andremo un pochettino a parlare delle prime impressioni un po a caldo di cyberpunk perché tutti e tra lo stiamo giocando io forse sono quello che ha minore di gioco non lo so gipo si è nerdato la famiglia su cyberpunk praticamente ha fatto un patto con cd project gli ha venduto l'anima e andremo anche un po a parlare sicuramente anche del background di questi ultimi giorni dei problemi delle polemiche che si sono tirate su a causa dei bug soprattutto a causa delle delle problematiche sulle console old gen e anche poi andremo ad approfondire meglio dell'umiltà non sono sarcastico sono serio da parte di cd project riguardo proprio ai problemi sulle console old gen però prima di iniziare vorrei far fare la presentazione a devil chi cazzo è perché c'è uno che si chiama devil qui con perché si chiama dai perché era era su nickname generator il rimpiazzo delle lettere con i numeri nella hacker simulation chi sono chi vuole farmi la presentazione che devo i due o che dire signori io gioco ai videogiochi da quando sono un ragazzino iniziato quando ero piccolissimo con nintendo nes sono andato avanti per tanti anni fino a quando non mi sono trasferito al computer intorno agli 8 dove ho conosciuto la programmazione la sicurezza informatica saltiamo un bel tapoti anni finisco a lavorare nell'industria videoludica state che non lavoro infatti in italia cosa che mi dispiace perché non posso mangiare la pizza ogni weekend ma mi posso mangiare un ottimo pesce fermentato svedese ecco e l'ho invitato perché perché lui non lavora la 16 pro di jet red per questo l'ho invitato perché non lavora lì e quindi va bene quindi può dire un po quello che cavolo e quindi dico quello che poi anche che non sono in rappresentanza ufficiale quindi possiamo mandare tutti gli insulti che vogliamo a tutto ma quanto è bella questa cosa ma quanto è bella e sappiamo che l'industria videoludica gli insulti volano spesso eh già vero è a vero elettronic arts facciamo già i ragazzi bastardi bastardi mi fa baura no comunque ho deciso di avere un ospite perché devil vabbè sicuramente sa parlare di videogiochi sa parlare delle sue esperienze e scommettevo che avrebbe scelto un altro background diverso da quello mio e di dylan è così la differenza nostra davis a parlare punto non è un alfabeta come in egipto quindi partiamo il romano non mi sono dimenticato l'italiano ormai parlo italiano romano mischiato con l'inglese quindi non lo so quanto effettiva questo posso sapere lo svedere umano però ma essendo un appassionato negli RPG di carisma e intelligenza tant'è che di entiero sempre il mago ma più appavano sostanzialmente solo quello di background potevo scegliere vabbè giustamente giustamente vabbè partiamo ma di like chi ha scelto dylan io ragazzi ho scelto il nomade il nomade la storia del nomade è quella di un uomo che ha sempre vissuto all'interno di un clan al di fuori di net city molto made runner come era l'impostazione tutto nel deserto con questi non macchinoni però la vita nel clan da quello che ho anche letto nei vari dossier all'interno del gioco prendeva un po spunto dal dal celebre film ma a parte l'inizio che comunque è l'unica cosa diversa poi per il resto è molto analogo alle altre storie l'inizio molto semplicemente senza non è uno spoiler perché è proprio il prologo del gioco tu parti letteralmente dentro un'officina a sistemare la tua macchina ti arriva lo sceriffo che ti rompe un po' le balle e tu vai incontri un tale di nome jackie che poi ovviamente ha lo stesso personaggio iconico nelle altre due storyline quella della corporation e quella dello street kid dovete contrabbandare un'iguana davvero? si 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 un'iguana fra mille cose un'iguana una lucertola va bene si così gli hanno dato molto simpatica arrivate alla dogana per entrare in night city io personalmente ho scelto di dare la mazzetta al tipo la dogana però comunque credo che qua la storia fosse scriptata non fosse a scelta cioè anche se sceglievi di non dare la mazzetta ma magari di giocartela meglio era una cosa scriptata e alla fine cos'era? era che superata la dogana sembrava andasse tutto bene poi invece vi bracca tutta la polizia c'è un inseguimento con sparatoria niente seminate tutti distruggete tutti arrivate a night city e parte la famosa cutscene dei sei mesi diciamo a night city in compagnia di jackie e poi parte la prima missione che è quella analoga comunque uguale anche per corporation street kid dove dovete prelevare diciamo una donna all'interno di una vasca da bagno non voglio andare a entrare meglio nei dettagli perché magari può essere spoiler o cose del genere però no questa è la storia del nomade un tipo cazzuto che gli piacciono le macchine le armi molto mercenario molto per sé nonostante diciamo un po' paradossale la cosa visto che i nomadi sono famosi per la questione dei clan della famiglia tutti insieme tutti uniti noi ce ne sbattiamo altamente le pari e vogliamo stare da soli frega niente di nessuno facciamo quello che vogliamo ma invece voi ragazzuoli che introduzione stramega introduzione hai praticamente detto la fine del gioco tra un po' devo ancora finire io invece ho scelto il kid street quindi il ragazzetto di strada che invece il ragazzetto di strada parte da da un compito da un vecchio capo di una gang che già con il background conosceva prima di arrivare a night city e il compito è quello di rubare un'auto andando a rubare un'auto mentre la stai rubando arriva Jackie che anche lui la doveva rubare a quanto fare e quindi poi va avanti e ci sono sostanzialmente le stesse gli stessi sei mesi poi la stessa missione esatto ok ok e invece sei stato nomade ci sono stato io kid street arriva e poi c'è il icone di turno il ricone di turno con la papa pronta in realtà nemmeno per sogno tant'è che all'inizio del gioco ci accreditano un sacco di soldi sul conto che però vedremo per poco tempo perché diventeremo gli assistenti di uno dei membri dell'amministrazione di un'azienda molto importante all'interno del mondo di cyberpunk penso che possiamo nominarla anche per chi non è uno spoiler Arasaka che ci ordina di ritrovare questa ragazza per alcune questioni particolari e all'improvviso quando andremo a parlare con Jackie di questa missione le stesse persone dell'azienda verranno da noi a toglierci tutti i soldi e anche il chip da cui ci sono le informazioni di questa ragazza dopodiché andremo a provare a recuperarla la stessa storia che poi c'è con il nomade e ci ritroveremo senza una lira per strada con Jackie e lì inizia l'avventura ma Jackie che rapporto ha con Arasaka nella storia della corporation? è chiaro che continua ad essere molto canon innanzitutto ho notato questa piccola differenza nel modo in cui si comporta B all'interno dell'introduzione quando è nel lavoro sul posto di lavoro e fuori dal posto di lavoro con Jackie sono entrambi contro le corporation le aziende le multinazionali di questo mondo tuttavia B continua a lavorarci per sembra quasi che faccio il doppio giochista ecco questo mi è data l'impressione personalmente è stata quella che B stesse facendo il doppio giochista o la doppia faccia all'interno dell'azienda ma quindi anche Jackie lavorava all'interno di Arasaka no Jackie non lavora all'interno di Arasaka solamente B lavora all'interno di Arasaka però Jackie e lui si conoscono già a quanto varia in questa insoluzione e si incontrano in un pub strip club credo più la seconda non ci ho fatto ebbene cosa fai te ne privi di un po' d'alcol a Night City certo che no no è interessante che comunque l'inizio sia diverso per queste tre categorie come è anche interessante il fatto che non so se ci avete fatto il caso ma sicuramente sì che spesso nei dialoghi ci sono proprio delle opzioni legate alla tua storia io magari mi ritrovo nomade e poi la frase magari da dire proprio perché sei nomade ti puoi permettere di dire quindi immagino anche per Street Kid e Corporation e quindi magari riesci ad ottenere più informazioni o giocarti una missione in un modo completamente diverso secondaria magari o anche questline principale questa è una cosa molto figa molto figa anche se forse l'unica cosa di cui personalmente ritrovo un pochettino da ridire però mica tanto che ci sta è che la diversificazione a parte questa cosa sia soltanto all'inizio cioè non c'è proprio un modus operandi diverso per affrontare le missioni se sei nomade Corporation o Street Kid in realtà credo che ci sia una differenza ok non so dove sei arrivato con la storia principale io sono arrivato all'ultima missione da fare la trattativa ovviamente vede lo spoiler ma la trattativa che è stata fatta tra V e quest'altro personaggio per esempio c'aveva tre opzioni di cui una è la quella della corte e infatti da là credo di aver influenzato almeno in parte l'andamento della missione purtroppo per sapere dovremmo giocarlo più di una volta cosa che farà sicuro però credo che in qualche modo può influire il modo in cui tu farai alcune missioni in base anche al tuo background io l'ho finito ok bastardo e sicuramente ho ho notato anche tra le varie scelte che c'è molta più diversificazione nel finale nelle scelte da da quando te entri appunto per fare la trattativa da quel momento in poi ogni scelta qualsiasi scelta vale per avere un tuo finale anche il finale molto figo anche anche una parola negli ultimi cinque secondi del finale ti può cambiare ti può cambiare già questo è molto figo io ragazzi ma quanti io parlo da quanti eh quanti cosa quanti finali abbiamo eh io credo non so ce ne potrebbero essere 40.000 dipende non so devo devo rigiocarlo mi devo rigiocare la missione rigiocarla rigiocarla per vedere se ogni scelta 39.999 volte per rigiocare divertiti perché allora non so non so se qualsiasi cosa tu fai arrivi ad avere le ultime due opzioni ok perché alla fine ci sono due cose da scegliere ma non so se cioè io ne ho scelta una che poi mi ha portato alla fine non so se quell'altra mi portava comunque a continuare per vedere altre cose vabbè sicuramente poi quando finirà Devil lo finirò anch'io che vi ricordo ragazzi io ci ho giocato da ci ho giocato un po' venti orette però non sono arrivato al punto della storia in cui è Devil sono molto quindi sono più o meno credo a metà del secondo atto e poi ci potremo confrontare meglio sulla questione dei finali e capire se magari è una cosa scriptata dove hai due scelte basta o se magari ci sono veramente se magari riusciamo a dare tre finali completamente diversi si perché magari facendo alcune scelte ti danno opzioni di finale diverso magari questo è da vedere esatto sarebbe molto bello io riguardo la storia ah scusa Davi vai no prego vai no no io prima di fare questa decisione di fare l'ultima missione infatti ho aspettato arrivo all'ultima missione adesso e voglio vedere se facendo tutte le secondarie posso sbloccare ulteriori opzioni ok è bella questa cosa si si è interessante perché magari non lo so aumenti una relazione o rapporto con un altro personaggio che ti può aiutare come no all'interno della missione no io volevo dire che era una cosa che temevo che l'ho già detto sia in live sia in una puntata qua nella taverna podcast io ho sempre uno strano rapporto con i giochi di ruolo che mi ritrovo soprattutto se sono molto immersivi molto immensi grossi con tante cose da fare mi ritrovo a non cagare più la storia principale e farmi i cavoli miei esplorando la mappa o facendo queste secondarie devo dire che con cyberpunk è diverso e ne sono contento perché la storia la trama è riuscita a coinvolgermi al punto tale che riesco a fare un po' tutto senza annoiarmi e sta cosa l'ho apprezzata tanto l'ho apprezzata tanto perché molto spesso mi sono ritrovato con giochi di ruolo enormi stupendi con una lore fantastica una questline completamente trascurabile che poi ti porta un po' ad allontanarti dal gioco almeno per come approccio io io non saprei l'esperienza che ho avuto all'interno del mondo di gioco è stato un pochino overwhelming se dice in inglese un pochino eccessiva mi sono ritrovato ad avere missioni su missioni su missioni il mio telefono non si ferma mai sta sempre a spingare sempre a dire vai qua fai quello fai quello fai che è un bene per carità nel senso il modo in cui il gioco ti dà la possibilità di sviare dalla missione principale ma anche il fatto che puoi ascoltare qualcuno che dice qualcosa in un certo modo e potrebbe darti ulteriori informazioni in un'altra missione altrove è sicuramente immersivo però dall'altra parte mi sono trovato perso all'inizio all'inizio ero perso non sapevo come muovermi ok no posso capire che io sono nel punto in cui sono ho detto a metà del secondo atto c'ho un botto ma veramente un botto di questa secondaria di contratti il fatto è che non ne avrai sempre di meno perché più aumenti la tua reputazione più te ne daranno più ti chiameranno perché aumenti la tua reputazione più ti chiameranno per darti del lavoro ma questa sicuramente come diceva David è una cosa che magari all'inizio ti sei un po' frustato spaisato più che altro frustato però io personalmente anche no perché io poi c'ho c'ho quel palino in testa che devo completare c'ho quella bucina dentro di me che ti dice completare completare aspetta la storia completare quando te ne ritrovi tanto poi passi da un estremo all'altro dove non le cagli più per un po' e vai avanti con la storia perché è bella e ti prende e poi te le tieni per dopo ed è proprio questa la cosa che spero è che l'endgame di cyberpunk sia un endgame ricco che non sia lasciato a se stesso fine a se stesso ecco forse qua Gipo può dire qualcosa di più visto che ha completato la trama ma cosa intendi per endgame ricco cose da fare e soprattutto nulla quantità di cose da fare ma lo scopo perché se tu mi riempi di missioni ma queste qua non hanno un fine non ci faccio nulla quando ti apri l'inventario in altro ci sono i tre quadratini con le percentuali sì ad esempio il primo è quello della storia principale della rasaka eccetera poi c'è quell'altro in mezzo e quell'altro dell'ultimo e quindi se non mi sbaglio è praticamente corporazione street kid e nomad quindi più te fai le missioni secondarie di queste cose e più ti aumenta la percentuale quindi non so a che cosa porta eh non lo so ok 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 perché io non sono arrivato in fondo degli altri due però so sicuramente che l'endgame punta su questo sul completare anche le percentuali delle altre cose però non so a cosa portano però sicuramente la figata di vederti full chittato di cose elettroniche addosso eccetera già esatto già soltanto i vari equipaggiamenti cibernetici che una persona può avere mi porta a giocarlo ore ed ore ce ne sono di alcuni cointravisto che sono molto molto fighi e divertenti da utilizzare immagino ma i soldi volano all'interno di sto gioco cioè quello che guadagni lo perdi subito esatto sì vero interessanti li devi trovare innanzitutto che non è facile li devi sbloccare in base alla reputazione che hai la street reputation il livello verde la popolarità del tuo personaggio e poi costando tanto significa che poi ti devi anche andare a fare ulteriori missioni per cercare di fare ulteriori soldi quindi c'è un ciclo ripetitivo esatto gli hai detto una cosa giusta perché non sei il punto in cui sei straricco ti compri tutto e basta hai anche lo scopo di guadagnarti quello che vuoi e ci perdi delle ore nel farlo di divertimento quindi no questo è un punto a favore sicuramente che archicchisce il gioco in sé anche per il game ma invece ragazzuoli bug perché io ne ho incontrato uno ne ho incontrato uno e ora vi faccio ridere vi faccio ridere c'è una missione nell'atto 1 dove dovrai prendere un componente un oggetto che ti servirà poi per andare a fare la missione finale del primo atto hai a che fare con un gruppo di malintenzionati che si chiama Mailstorm una cosa del genere e c'è una in particolare tanto non è spoiler ragazzi che si chiama Doom Doom cosa succede? per come ho giocato io la missione mi sono ritrovato affiancato a Doom Doom per uscire diciamo dal loro IGQ cosa è successo? al termine della missione mi sono trovato Doom Doom che mi seguiva per tutto il tempo tanto è vero ragazzi io c'ho anche le screenshot poi al limite Gipo non so io te le passo in editing le puoi mettere con attenzione spoiler che nella missione finale del primo atto c'è un filmato molto importante dove succede qualcosa che poi manda avanti completamente tutta la storia del gioco e io ero con un altro personaggio a vedere la scena davanti a me e a destra c'era Doom Doom fantastico fortunatamente a fine di quella missione si è sbaglato però devo dire che mi è stato utile perché io ho fatto una corsa secondaria dove dovevo fare dei combattimenti clandestini a pugni e mentre io menavo la gente c'era Doom Doom che gli sparava ci voleva troppo il video da mettere ma si 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 in stealth non mi ha mai rovinato le azioni in stealth è stato onesto bravo che è la cosa che temevo soprattutto per l'ultima missione dal primo atto quindi è un bug fastidioso a metà perché lui poi ogni volta che sali in macchina saliva sempre con te in macchina e non era da meno la compenetrazione dei personaggi quando avevo una missione magari di scorta con personaggio in quel momento che poteva essere Jackie o qualcun altro c'avevo Doom Doom e Jackie sovrapposti nel sedile a fianco a me un po' inquietante poi inquietante anche il Doom Doom che ti giri ti ribecchi sta cosa con 8000 occhi rossi mi cagava in mano occhi più di creato un ciclope eh sì esatto esatto la compenetrazione nella macchina è successa anche a me durante una missione con un personaggio che non voglio nominare perché potrebbe spoilerare potrebbe essere uno spoiler e praticamente questo personaggio entra con la macchina in una galleria e tu incontrerai dei nemici poi che dovrai praticamente uccidere nel fare questa cosa mi sono trovato in una missione molto più difficile di quello che doveva essere tra parenti sto giocando in difficile quindi muoio sempre con un colpo e l'ho ripetuta varie volte e ogni volta che responavo il gioco mi responava al posto di guida quindi ero compenetrato in questo personaggio ah è successo anche a me non in quella missione però in un'altra aspetta in quella della galleria che poi ti fermi per poi uccidere altra gente ho capito si è successa la stessa cosa sono morto e sono spawnato compenetrato al posto del guida che bello di bag comunque non c'è solo questo ne ho incontrato i vari per fortuna ho due replay se li vuoi te li mando uno di questi un cadavere mi ha bloccato la macchina della missione per qualche motivo perché è finito sotto e non riuscivo più a fare trazione sul pavimento e quindi sulla strada e quindi non si muoveva più tant'è che l'ho raccolto l'ho buttato sopra la macchina perché ho detto bastardo tieni prenditi pure questo ho provato a ripartire non partiva perché il cadavere era di nuovo pagato risultava un muro invisibile fino a quando non ha cominciato a contorcersi in modo stranio non umani e poi è sparito credo e poi sono ripartito un altro è a parte i vari piccoli bug che penso avremmo visto tutti quanti tra personaggi che te trasportano quelli che camminano piano piano e poi l'improvviso fanno messero in loop anche fuori dal contesto in cui era necessario dai purtroppo ho visto anche un altro in cui la signorina di cui parlava un po' prima si è messa praticamente ha preso in pieno un cestino il cestino le si è incastrato in un piede faceva collisione quindi si stava mi in mano che camminava andava sulle scale poi è scesa all'improvviso perché il cestino non lo so che è successo ma lei si è improvviso ho detto vabbè questa se ne va sul piede dalla chiama e poi improvviso e quindi prendiamo l'ascensore mi attaccavo e bribola invece invece mi è successo che chiamavo la mia auto quando arrivava si compenetrava nel muro ci arrivavo davanti ed è esplosa mi si avrebbe preso un infarto io ho chiamato la mia auto investita dalle persone tra una cosa quando chiami il veicolo se vedi in basso a sinistra c'è scritto che la feature la funzionalità della guida automatica è in beta e qualsiasi danno proprietà e persone è responsabilità del proprietario io non so se è stato fatto apposta è probabile ragazzi c'è un bug che non riusciamo a sistemare quando un bug diventa una feature e non è un altro sempre bellino di quando chiamavo l'auto eravamo in una villa a parlare con della gente avevo lasciato la mia macchina davanti all'entrata davanti al cancello e noi eravamo dietro nella piscina a parlare allora finiamo c'era un buco sul muro esco dal buco sul muro chiamo la mia auto e la vedo schizzare in aria quando la chiamo e poi dico vabbè ci ritrovo la richiamo e rischizza in aria bellissime queste cose ritorno al futuro è diventato space x un po' di rocket league su cyber c'era c'era da aspettarsi una quantità abbastanza altina di bug è normale il gioco è un'opera immensa se devo essere sincero sono meno game breaking di quello che mi aspettassi la quantità di bug rompe più l'immersività all'interno del gioco lo rende un po' più banale in un certo senso però alla fine il gioco è uscito qualche giorno fa e c'è il suo ha rilasciato un'altra patch che ha fissato un numero di problemi con le quest che lasciavano le persone bloccate che non è da poco abbiano fixato doom doom mi seguo ma che figo l'ho scoperto due giorni dopo che era un bug beh sarebbe stato utile per un po' strano che dirà non fai i suoi collegamenti magici però debile gliel'ha servita su un piatto d'argento cosa? quella dei bug che l'hanno già aggiornato e tra una settimana o meno ce ne sarà un altro dicono eh no allora no sì volevo tenermi il discorso diciamo quello che lo tieni dopo però diciamo solo che hanno detto che tra giorni tra una settimana o prima ce ne sarà un altro magari c'è già stato quando è uscito sto video who knows e il tuo discorso te lo tieni per dopo brutto bastardo io farei un duello a pugni da questa accusa assolutamente prendo il mio braccio vioni non c'è il campo per te scappa ma io c'è questa secondaria dove dovevi picchiare due persone contemporaneamente sì e io pigliavo a pugni e lui rilanciavo i granati incendi stanno facendo le missioni quelle da sì delle lotte candestine mi sbagliavo ho detto boh facciamolo un po' ma perché mi stanno non le ho ancora fatte quelle guarda ce ne sono una veramente posta ma te le hai fatte tutte diranno no ne ho fatta una ne ho provata un'altra dove mi hanno erato avevo scommesso 4000 head ma hai fatto quella quella del militare tipo hai fatto no di uno molto molto trap sembra con la catenella nel ghetto nel campione della basket no oddio con la moglie incinta allora no un po' particolare io invece invece ne ho fatta una dove ho vinto avevo scommesso un botto ho vinto ma non mi hanno dato i soldi della vincita no perché basta stanno almeno rimborsato spero la scommessa no 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 non li avevo ma uccidivi basta eh no niente no allora non ve lo voglio spoilerare quindi non vi dico com'è successo eccetera però io pensavo che potessi riprendermi poi i soldi invece no pensate sta gente a night city che bastate figli di tutti beh lo sappiamo che ho guadagnato solo un'altra cosa tutti quanti sono pronti appugnalati alle spalle no l'abbiamo l'ha detto anche tra le mie tu sei sempre il più leale di tutti prima ti odi e poi ti ama fantastico poi vi faccio vedere gli screenshot non ho fatti un bordello no comunque l'ambientazione ecco una cosa che mi è piaciuta tanto è che night city la senti è viva sembra quasi new york potrebbe possiamo far dimmi che new york è visto però no perché è sempre viva anche di notte c'è è sempre pieno di gente cioè questo poi è stato l'unico gioco che ogni tanto mi prendevo andavo in città e camminavo sui marciapiedi perché è troppo figo con l'rtx e le stronzate con l'rtx è bellissimo è tanto bello bello tanta roba anche se io personalmente ho riscontrato i problemi di ottimizzazione che capitano a caso proprio a caso fino all'art 1 non ho avuto nessun problema di calo di framerate nell'art 2 mi ritrovo spesso magari in posti con un sacco un sacco di gente o anche magari a volte anche due metri quadrati distanza però vai a capire cosa succede mi calo il framerate a caso poi due secondi dopo magari si ristabilizza e non è più così o vado in un posto che è ancora più affollato ancora più più oggetti in scena e il framerate va meglio non so se è capitato anche a voi o il frame rate il drop di framerate li ho visti anch'io però non è e credo che sia influenzato più dalla luce dall'lightning piuttosto che dalla quantità di oggetti e così via ok se fai caso all'RTX quando metti l'illuminazione proprio dell'RTX gli FPS se l'accendi muoiono rispetto a quindi quello pesa tanto invece anche i riflessi un po' meno ma la luce fa tanto ok ok perché ce ne sono tanti in effetti cioè night city è una città di neon e luci quindi credo che questo sia la parte peggiore del gioco però se l'analizzi bene la grandezza della mappa o dell'area che tu stai esplorando la quantità di persone le persone che parlano i suoni il fatto che queste interagiscono tra di loro si fanno gli affari loro le animazioni sono bellissime molto dettagliate molto fluide molto realistiche le espressioni facciali tutto questo renderizzato è molto pesante per qualsiasi computer il fatto che siano arrivati a farmi fare 40 fps nel peggiore dei casi su pc ora io non ne faccio 40 però ho sentito guardate molte persone che fanno questa quantità non è poco non è comunque poco tu sei uno che fa 40 fps ogni tanto si ora te mi devi dire le tue impostazioni perché non ci credo che arrivi a 80 e 1080p che non ci arrivo nemmeno io ragazzi ho tutto a dubbio ci sono soltanto due impostazioni che puoi mettere a foglie una con l'artx e una nelle impostazioni grafiche generali non ce l'ho quelle ho tutto ad ultera mi va da dio soprattutto la notte ma anche di giorno però ci sono dei punti a caso dove per tot tempo completamente a caso perché poi se riavvio il gioco magari non è così ho un frame rate drop non ho visto di quanto però non vi saprei dire esattamente di quanto perché ormai il mio occhio si è abituato a frequenze alte quindi secondo me già vedere anche 60 frame a volte mi dà l'idea quando una volta che passi al 144 hertz non torni più indietro esatto io le impostazioni comunque un consiglio vi do la parte più intensiva di solito nel videogioco è la renderizzazione della luce delle ombre se pensate che sia troppo basso il frame rate mettete le ombre a medio il motivo è che più è alto e più è maniacale il modo in cui l'ombra è renderizzata sul pavimento vedi perfettamente la forma magari è anche un po' più sfogata perché in base anche alla distanza dell'origine della luce se lo metti a medio invece è comunque soddisfabile ma non è soddisfacente ma non è ultradettagliato però effettivamente quanto tempo tu guardi per terra le ombre delle persone no però quindi le ombre le metteremo a medio ma le due impostazioni c'è perché c'è quello cascata delle ombre e poi c'è quell'altra sotto quelle le lascio on non è un problema ma in genere tutte le ombre che siano quelle dirette e indirette quindi dinamiche e anche il global sun che sarebbe poi la luce generale quella del sole metto sempre tutto a medio quindi anche anche su cyberpunk cioè così anche su cyberpunk lo faccio in tutti i giochi se vedo che comunque un problema persistente mi dà fastidio seguirò questo consiglio dove c'è scritto ombra qualsiasi cosa sia meglio ho detto un'ombra meglio subito e poi arriverai a un certo punto che tua mamma tipo dice guarda le ombre è a medio l'hai messa a medio messa a medio fino a impattire ok ok no buono a sapersi buono a sapersi perché mi mentre mi scocciava per esempio diminuire le RTX o le texture ma il DLSS come ce l'avete voi automatico automatico io l'ho provato in quality e sinceramente la differenza la vedo a bestia però media il più basso è stato 35 ma era pieno zeppo di roba invece ho una media di 45-50 ogni cosa quality tutto adulto in 2k io ti dico l'esperienza con quality avvio la customizzazione del personaggio sono dovuto ritornare indietro perché pensavo avessi attivato la censura no quality ma cosa ma allora hai messo quella sbagliata no di RSS quality ma quality è proprio quello che dà più qualità che se metti auto ti dà più sfocatura ma non è vero è un incurato pazzesco è una fregatura dove hai sbagliato te non ci hai fatto caso rifarlo no ti giuro ho messo quality nella customizzazione del personaggio vedevo sfocato come se fosse censurato appena ho messo automatico andava da dio dopo ti apri l'inventario in automatico e guardo il personaggio e metti quality riapri l'inventario e riguarda o è dovuto non so alla tua risoluzione ma potrebbe essere un bug come tanti sinceramente ormai mi aspetterei qualsiasi cosa un altro bug che mi era capitato è che a caso dopo un dialogo con un personaggio io di solito gioco con il FOV a 100 a caso ma la rimedi di default soltanto il FOV vado le impostazioni cambio mi dice a 100 quindi cosa faccio torno indietro e rimetto e non cambio quindi ho dovuto riavviare il gioco per però ripeto come ti diceva prima a parte qualche bug gugliardico e tutto cose che infastidiscono tanto sono abbastanza rara almeno cioè la cosa di Doom Doom forse mi è andata bene a me che non che è stato non è grave no cioè non è grave mi ha aiutato ti fai due risate lì nel filmattino vedi tutta la cosa seria ti vedi un idiota che si accovaccia a casa e chissà oppure sponi con delle tette che non siamo due personaggi no comunque secondo me parlando della gente se l'è presa un po' troppo sul personale con sto gioco del fatto che non è stra mega ottimizzato e quindi tutti a rompere il cazzo soprattutto non mi dimenticherò questo che si lamenta che è tutto ad ultra con rtx ultra con la 2070 in 4k e andava a me di merda ragazzi in 4k devi avere 1080 io c'ho la 2070 ad ultra mi va da dio ma in 1080 ho problemi problemi io con la 2080 ti hai in 2k figuriamoci la 2070 ma infatti no ragazzi ma al di là di tutto come si diceva prima delle imperfezioni che ci possono essere c'è da ricordare che è un'opera mastodontica cioè cyberpunk è immenso quindi ci si può passare sopra esatto possiamo tranquillamente passarci sopra finché è giocabile ti diverte è bello e ti va discreta cioè bene ti va bene non soffermiamoci su sti dettagli ma in 4k con la 2070 non mi gira cambia scheda video non compri le balle ma che sia chiaro stiamo parlando di un'azienda che per loro il videogioco è amore abbiamo visto già che tipo di videogiochi hanno fatto uscire abbiamo la trilogia di The Witcher che non è da boe poi abbiamo Thronebreaker che è uno spin-off di The Witcher sebbene completamente diverso ma anche The Witcher 3 quando ha lanciato ha avuto i suoi problemi anche GTA 5 quando ha lanciato con l'online ha avuto parecchi problemi però a parte Rockstar che poi non li fixò mai quelli online soprattutto è conosciuta per convertire sempre i propri giochi poi alla Definitive Edition quando tutto è stato corretto testato e perfezionato in tutto e per tutto Silly Project è una di quelle poche aziende che viene veramente incontro ai consumatori ma poi viene prima il gioco e poi il soldo esatto è una volta che l'abbiamo visto alle 3 del 2013 credo che il team fosse di circa 50 persone poi quando hanno finito The Witcher tutto il team di The Witcher si è spostato sul cyberpunk comunque tantissime persone e adesso siamo milioni che possiamo reportare i bug quindi comunque che 500 mille persone non sono comunque così tante no soprattutto per un gioco così gigante e ci sono più bug che persone che ci hanno lavorato quindi io vorrei mettere una postilla su una cosa che magari qua il buon Devil che lavora nel settore mi potrà confermare o meno ma c'è anche una cosa che in pochi secondo me hanno considerato e molti dicono 8 anni per un gioco molto buggato magari hanno ottimizzato bene ma c'è anche da dire che a livello tecnologico nel mondo del gaming in questi 8 anni sono successe un sacco di cose ma veramente un sacco di cose cioè la tecnologia non è una funzione continua è una cosa che si evolve a gradini e in questi 8 anni ci sono stati tanti gradini e molto densi uno per esempio è l'RTX quindi io mi immagino questi poveri ragazzi che hanno iniziato a lavorare nel 2012 a Cyberpunk che doveva uscire tra le console next gen che all'epoca erano PlayStation 4 Xbox One che nel corso d'opera dello sviluppo si sono dovuti hanno dovuto affrontare vari cambiamenti quindi magari stesso modificare il codice sorgente dell'engine per adattarlo magari con le nuove tecnologie come quella dell'RTX per esempio e non è una cosa da poco cioè è veramente un lavoro enorme soltanto questo poi non so Levi magari mi può confermare meglio sta teoria o meno che mi son fatto nello specifico di RTX non saprei quant'è la quantità di lavoro da allogarci però è vero quando crei una tecnologia e crei un progetto a lungo termine devi anche proiettare quello che si chiama il debito tecnico effettivamente quanto poi ti costa dopo mantenere a lungo termine sempre al passo con le tecnologie le performance le ottimizzazioni i vari tipi di algoritmi che devi poi andare ad implementare e così via diventa enorme io penso che ovviamente le compagnie di videogiochi sono state a contatto con i partner di schede grafiche quindi per dirti qualcosa noi dell'RTX avevamo già il prototipo un pochino prima dell'annuncio stesso però non è mai troppo prima ma anche il dispositivo stesso il prototipo non è mai effettivamente quello che poi riceviamo noi consumatori non è la versione finale è sempre quella schifezza che funziona perché devi capire se più o meno funziona o no stessa cosa vale con i development kit delle console e mettere le mani sul codice sorgente di un gioco è stato sferico e dipende anche dall'abilità del team stesso e soprattutto dall'organizzazione rispetto delle regole che ci sono all'interno del team quindi anche come scrivi il codice diventa una pratica e un regolamento tant'è che si chiama così mi pare che si chiama code of conduct no scusatemi quella è un'altra cosa non mi ricordo come si chiama comunque è letteralmente quando si inizia un progetto in cui bisogna scrivere codice tutti i membri si mettono sul tavolino e parlano di come si fa un contratto come si scrive il codice tutti insieme e si firma cioè tutti quanti da quel momento si impegnano a scrivere codice sono proprio delle regole da rispettare sia di identazione di commenti tutte queste cose che magari uno dà per scontato però esatto che sono fondamentali perché se uno ci deve mettere mano rischia di non capirci nulla peggio ancora se io l'ho scritto mi hai dato il codice sorgente dei cyberpunk non ti ama caso e poi mi licenzio e chi lo legge con chi ha caso esatto x y e z basta non i dentati mari grammatiche non rispettate no no sono cose fondamentali è enorme il passo con le tecnologie è stratosferico e spesso l'unica top è che si può mettere a cercare di creare un design del software che sia più modulare possibile che sia anche ogni singolo componente indipendente in modo che tu puoi aggiungere un pezzo e connetterlo con il minimo sforzo poi dopo però purtroppo quando parliamo di tecnologie come per esempio il rendering tridimensionale o parliamo di tecnologie un po' più complesse come può essere anche il networking stesso quindi la parte dell'internet come comunica il gioco con internet con il multiplayer sarà sempre una spina nel fianco che richiederà un intero team che si dedica specificatamente in quella cosa e rimane in quella cosa quindi sì c'è da dire che 8 anni di sviluppo per cyberpunk non sono solo una sfida in termini di quanto è ambizioso il progetto stesso il contenuto del gioco e quello che porta ma è una sfida anche riuscire a portarlo di fronte agli occhi della gente e dire questo gioco è nuovo no no è vero è vero anche perché ribadisco in questi 8 anni la tecnologia è salita a un livello incredibile la legge di Moore non vale più no quindi ottimo lavoro e volevo proprio parlare di questo per una problematica che si sta affrontando ultimamente quindi parliamo adesso delle cose un pochettino più più tozze i problemi sulle console old gen i grossi problemi sulle console old gen che qui io ne parlerai per secoli perché ci sarebbe tanto tante cose da dire e niente allo stesso tempo cioè io mi rendo conto che CD Projekt aveva inizialmente l'idea di portarlo sulle console old gen e non poteva deludere quelle persone perché se non l'avesse portato noi oggi saremo qua a lamentarci dal fatto che non c'è su old gen quindi devi comunque cercare un compromesso d'altra parte io sono dell'idea che abbiano un pochettino toppato sulle console old gen ma non per colpa loro cioè non non perché è il gioco ottimizzato male ragazzi siamo chiari possono fare un sacco di patch ma quello è l'hardware quello è l'hardware della Play 4 quello è l'hardware dell'Xbox One quindi puoi migliorare un pochettino grazie a una ottima ottimizzazione ma se l'hardware è di otto anni fa di otto anni fa rimane cioè il gioco palesemente si capisce dai trailer dai gameplay più che altro non è un gioco per console di otto anni fa è un gioco per console di nuova generazione per pc di fascia medio alta e lì secondo me hanno toppato nel distribuire ugualmente sulle console del genere ma d'altra parte mi metto magari nei panni dell'azienda e posso un pochettino capire perché l'abbiano fatto c'è da dire e poi lascio la parola a voi che CD Projekt comunque si è dimostrata molto molto umile riguardo a questa cosa chiedendo scusa e prendendosi la responsabilità di ritirare le copie fisiche qualora il negoziante magari non lo permettesse e questa non è una cosa da poco quindi qui io direi brava CD Projekt per venire incontro alle esigenze degli utenti per rimanere umile per rendersi comunque il più efficiente possibile anche per risolvere prima possibile i vari problemi che ha il gioco perché già dopo due giorni di lancio c'è stata la patch la 1.04 quindi anche lì poi non so voi cosa ne pensate per la questione Play 4 e Xbox One che sicuramente è normale sotto un certo punto di vista che non vada benissimo perché è un gioco enorme e loro comunque vogliono cercare di mantenere un bilanciamento tra qualità dell'immagine e anche di prestazioni però comunque fra tutte le cose che ci sono nel gioco miliardi di persone all'interno veicoli tutte queste cose che comunque appesantiscono ad esempio io nella scena nella missione quella del carro che è pieno di gente lì mi stavano amore sono arrivato anche sui 28 lì proprio strapieno a una console di 8 anni fa di 7 anni fa adesso non mi ricordo l'uscita dalle console del genere credo sì è normale credo che city project innanzitutto penso che il ritardo almeno l'ultimo ritardo del gioco il rimando a dicembre è stato proprio perché c'erano problemi non solo già con il gioco a base di per sé anche per il pc ma soprattutto per le console e credo che quando hanno pubblicato il gioco anche per le console di vecchia generazione erano coscienti di quello che stavano facendo perché comunque non è che ci vuole tanto metti un cd e fai porti il gioco e ti rendi conto che non superi i 20 fps quindi è abbastanza ovvio tuttavia hanno già detto che chiunque il proprietario di una copia del gioco su ps4 o xbox one possono fare l'upgrade alla nuova generazione gratuitamente quindi già solo per questo comunque l'intenzione c'è quella di essere trasparenti anche coscienti del danno che possono fare al cliente in sé e che dire io penso che sia stata una scelta non tecnica ma di natura forse politica nel senso che penso che se avessero annunciato che il gioco non sarebbe uscito per le generazioni di quando è stato annunciato per giunto il gioco sarebbe stata una polemica più grossa e purtroppo non c'è molto da dire quando guardiamo gli esempi di c'era un posto sulla rettica visto stamattina di una persona che ha messo gli screenshot di vari masterpiece di giochi come god of war per esempio dicendo i giochi della vecchia generazione non possono come cyberpunk non possono girare sulla vecchia generazione e poi ci sono gli screenshot di tutti quanti steve i gioconi di quello che è fuori della sua fase esatto però c'è da dire una cosa è diverso creare un gioco che deve girare su più piattaforme in confronto a un gioco che è stato solamente sviluppato per otto anni dedicato ad un hardware specifico vero perché quando lavori su un hardware singolo per otto anni hai otto anni di campionamento puoi vedere dov'è che l'hardware punta di più quindi quali sono gli effetti stilistici che puoi utilizzare nell'ambito tridimensionale piuttosto che altri god of war non a caso è un'esclusiva microsoft se non sbaglio no sony sony scusate come anche dell'hast of us perché il paragone è stato anche fatto con dell'hast of us 2 che ripeto è mastodontico come gioco è fatto benissimo anzi complimenti ancora che ha vinto la gothi ma come diceva david è addibito è fatto apposta per l'hardware di the station 4 poi quando c'è l'esclusiva in genere sony o microsoft e chi che sia come contratto ti dà anche il supporto per quello che stai facendo quindi hai anche accesso a informazioni particolari se sony ha un'esclusiva con city project con cyberpunk ovviamente cyberpunk avrebbe girato meglio sulla playstation perché sony avrebbe dato accesso a informazioni materiali aiuto e supporto che normalmente non avrebbe avuto se non avessi avuto il contratto quindi è quel casino secondo me è nato per una questione politica e mi dispiace che abbia fatto questa figuraccia però ragazzi la realtà è che l'hardware come hai detto prima evolve in continuazione e da lì era da puntare o facciamo un gioco bellissimo e lo possono giocare tutti dal 2020 in poi o facciamo un gioco meno bello meno ambizioso o un'esperienza la metà di quella che sarebbe stata su qualsiasi piattaforma di generazione attuale e darti un prodotto che non sarebbe stato bello come sarebbe stato uno come tutti gli altri non farebbe la storia del videogame perché Cyberpunk sono convinto che farà la storia come The Witcher 3 contribuirà esatto io ho avuto commenti come è stato The Witcher 3 come ti avevo scritto anche a voi nel gruppo delle noccioline che c'è chi ha detto che è già uscito obsoleto e Star Citizen è molto più bello graficamente di Cyberpunk possiamo chiudere qua qua per le 7 e 17 io devo dire una cosa David capirà David tu sai cosa fare David l'hai staccato quello che dovevi staccare l'hai spento quello che dovevi staccare a proposito sono le 7 c'hanno ragione hai spento ok ci ha pensato la donna a posto ma veramente c'è gente che ha fatto questo paragone allora perché dicono che i combattimenti sono legnosi storia banale cazzate varie allora ma ragazzi paragonati a Star Citizen dove non rifai i combattimenti quali sono qual è la storia su Star Citizen ancora non ho capito poi nel senso allora qualsiasi gioco o film alla fine la storia può essere banale perché un film può avere la stessa storia dell'altro un gioco può avere la stessa storia dell'altro alla fine ci sono miliardi di cose là fuori può essere banale ok che io sinceramente non l'ho trovata banale ci sta può essere una classica storia del genere per gli eventi che ci sono e quindi ci sta che può essere gestita in un certo modo banale tra virgolette però a me ha preso tantissimo la storia e ci sta anche perché e poi il fulcro principale è come è narrata la storia a me viene l'esempio rampante di The Last of Us la storia di The Last of Us è banale epidemia il rapporto diciamo tra virgolette padre e figlia ma perché ha una storia stupenda perché è narrata da dio la storia di The Last of Us è narrata benissimo eppure la storia dei zombie no? eppure esatto esatto ma cyberpunk non doveva essere una storia nuova incredibile no infatti doveva essere il gioco in sé doveva essere rivoluzionario next gen anche doveva essere esperienza era il vivere night city non era il conoscere la storia del personaggio perché poi vi alla fine è uno qualsiasi non ti è dato nemmeno un background non ti ne frega niente nessuno di chi sei sei tu che devi creare la tua identità esatto in un mondo che invece è in un futuro che forse non è poi così lontano e secondo me era quello il fulcro di tutto questo tutte le tecnologie all'interno di cyberpunk probabilmente sebbene non a breve però probabilmente saranno tecnologie che la razza umana potrebbe effettivamente venire a conoscere se non veniamo bruciati dal dal riscaldamento globale no no come il backup della tua personalità come la vivresti se dentro il tuo cervello ci fossero due persone appunto e quindi a che punto lo puoi spingere e qual è la differenza tra umano e macchina dal momento in cui praticamente quasi il 95% del tuo corpo è tutto meccanico piuttosto che organico e cito un personaggio all'interno di cyberpunk se lo scannerizziamo ti dice il 93% macchina quindi che cos'è quello è un uomo è una macchina eh no è un bel ragionamento è un bel ragionamento c'è una filosofia dietro incredibile basta di pensare anche alla questione metafisica un po' magari uno si ricollega a si può collegare anche a un grande film quale è Matrix per esempio ma se ti scannerizzano la tua personalità e la mettono all'interno di un simulatore quella la consideri di realtà o no e cosa vivi dentro un simulatore cioè è una questione molto interessante eh sì e anche questo poi ci sono parecchie polemiche che potremmo tirar fuori da cyberpunk penso che molte cose alcune polemiche sono nate veramente da inutilmente c'era una non molto distante credo fosse solamente dall'anno scorso di quest'anno di quando è stata vista c'era un'immagine del gioco e lo possiamo ancora vedere adesso questa persona di questa ragazza che stava vendendo una bibita e aveva come dire una giraffa al posto di un altro organo sessuale e molte persone hanno fatto polemica su questa sfacciataggine possiamo dire perché questa poi era la critica da queste persone di mostrare una persona transgender per esempio questa cosa io la apprezzo molto in cyberpunk perché se dall'altra parte vediamo un mondo in cui la tecnologia comincia a meschiarsi con l'essere umano in sé anche la sua psiche dall'altra hai un'enorme accettazione dell'individuo e un'apertura mentale per la propria sessualità o la propria identità che tuttora facciamo fatica a conoscere cioè il gioco da una parte da aver garantito concetti che adesso diventano difficili nella società odierna ma dall'altra ti sbatte in faccia concetti ancora più complessi come la definizione dell'essere umano o la definizione di coscienza e questo contrasto mi è piaciuto molto è un gioco molto più avanti di quello che penso sia il 2020 Night City è una realtà distopica dove o c'è l'elitto ci sono i bassi fondi ma nessuno comunque ti giudica per i tuoi gusti per come ti vesti per quello che ti piace o per quello che fai c'è un'accettazione incredibile detto bene è una realtà che oddio a me lo stile cyberpunk personalmente piace un sacco e non mi dispiacerebbe viverci mi ci vedrei da dio come bistoli in cyberpunk mi sbaglierebbe un sacco mi piacerebbe veramente un sacco però d'altra parte comunque ha anche l'altra faccia della medaglia è un ora ovviamente cyberpunk è volutamente esagerata sotto molti aspetti è una realtà distopica la natura è pressoché inesistente tanto è vero basta di pensare alla cosa stupida dell'iguana all'inizio della storyline del nomade dove già chi se ne esce ma cavolo l'hanno trovata davvero ormai sono quasi impossibili trovare animali o cose del genere o il mare non esiste più ci sono proprio dei per quanto riguarda la vendita di pesce una volta mi sono soffermato a chiacchierare con una negoziante in un vicolo a Night City e c'era la domanda ma da dove proviene quello che vendi questo pesce lei ci fa beh ovviamente non dal mare ci sono delle farme apposta dove lo fanno e tutto è bello vedere l'evoluzione della tecnologia e anche col tempo è anche triste comunque vedere la distruzione tra virgolette del pianeta sotto quell'aspetto sotto l'aspetto della fauna ad esempio è una cosa sempre simile all'iguana che c'entra con invece un un coso oddio cazzo ce l'avevo in testa un gabbiano mi pare e è una cosa che sicuramente poi vedrete anche voi sentirete anche voi di 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 questo padre che ha cercato che ha fatto di tutto per mostrare quest'ultimo gabbiano ai suoi figli sì è triste sta cosa è triste come anche è problematica la questione che è figa a me sbaglia la cosa ma è problematica che tutto è connesso e tutto è accarabile ecco a tal proposito tiro fuori un argomento innanzitutto tiro fuori una scommessa in pubblico quanto scommettete che uno dei dlc è interamente dedicato al black wall primo e secondo voi come la vedete che dila non sa che cos'è il black wall non so lo scoprirai e secondo voi come la vedete invece l'isolazione l'isolamento che la città la metropoli si trova cioè ora tu non lo sai come ha detto prima cooper ma te lo spoiler non è niente di grave la città dal punto di vista di rete è interamente interconnessa all'interno della città ma oltre questo black wall non c'è nessun tipo di connessione né in uscita né in entrata il perché non te lo voglio dire adesso te lo diranno sebbene non te lo faranno vedere in nessun modo non lo lavoreranno scusami scusami la domanda stupida io abitante di night city come faccio a sapere cosa succede fuori da night city è questa la prima domanda che mi è arrivata quando abbiamo incontrato personaggi di altri paesi di altre culture esattamente da dove vengono e oppure com'è quel il mondo da un'altra parte al di fuori di night city ma anche al di fuori di questo mondo internetiano che cosa è successo cosa c'è oltre tutto questo perché c'è una particolarità di cyberpunk che è il passato non viene raccontato ti cita alcune guerre ti cita alcuni avvenimenti come il crollo della prima rete ti cita anche chi è stato e si approfondisci nelle missioni secondarie ed esplorazioni scoprirai qualcosa di più ma non ti dirà quasi niente effettivamente di cosa è successo ai tempi secondo me è successo qualcosa alla terminator secondo me a questo punto perché c'è l'esistenza sì andrò avanti anche a approfondire sulla questione però perché no perché no c'è una similitudine tra il firewall e questo esiste davvero il grande firewall cinese ovvero in Cina così come in Nord Corea in realtà c'è un enorme firewall le connessioni in uscita dalla Cina effettivamente spesso e volentieri o vengono monitorate o vengono bloccate a caso i cinesi in genere non vanno su Facebook hanno cucù hanno negozi social sì perché sono interni loro sono isolati dalla rete esterna non è paradossale come Cyberpunk ripropone la stessa identica realtà solo che da una parte tu la giustifichi nella vita che vivi in Cyberpunk ma non riusciamo a giustificare quella che invece vediamo nella realtà in Cina e questa domanda in realtà la rivolgo soprattutto a te Cooper perché tu l'hai visto il Blackfall tu sai di cosa sto parlando esattamente purtroppo Dino ancora non lo sa secondo te come è questa situazione questa similitudine è fedele riesce a giustificare l'esistenza di un Firewall per isolare le comunicazioni all'esterno ma c'è alla fine il Blackwall nel gioco è effettivamente ciò che si dice cioè è una cosa che dall'altra parte non si sa che cosa c'è o comunque c'è il il niente il tutto è un po' un mistero nel senso io non sono arrivato dove dite voi poi ne ripareremo sicuramente quando ci arriverò però è sicuramente una cosa che ha i suoi pro e i suoi contro cioè da una parte stiamo parlando di manipolazione dell'informazione cioè l'informazione è una libertà fittizia quella che vivi è una libertà fittizia d'altra parte stiamo parlando di un periodo dove letteralmente tutto è connesso quindi magari un qualsiasi malintenzionato con delle ottime abilità potrebbe causare dei problemi a livello geopolitico se se tu mi lasci qualsiasi connessione in entrata in uscita aperta e disponibile quindi chissà magari ci sono stati nella storyline nella lore di di cyberpunk ci sono state delle guerre magari causate iniziate da quella che oggi comunque iniziamo un po' a vivere una guerra dell'informazione ormai anche in ambito militare ci sono delle squadre adibite che si occupano di hacking per quanto riguarda rubare l'informazione ad altri paesi quindi sicuramente mettere un grande firewall come comunque ha citato David può anche bloccare questo tipo di problematica dall'altra parte ma può crearne varie ma può crearne delle altre comunque alla fine nel gioco è una bilancia un'informazione sola ci sa sostanzialmente non abbiamo chissà che cosa puoi trovare frammenti in giro tra documenti che trovi per terra che non leggo mai mi devo leggere lo so no certi li salto anch'io quando vedo i blocchi così di testo faccio beh certi ciao ma te lo sbaglio no però è una questione interessante è una questione interessante perché noi ci stiamo pian piano addentrando in un ipotetico futuro del genere già oggi possiamo vedere nel corso di questi vent'anni comunque dall'inizio del ventunesimo secolo ad oggi il mondo è connesso il mondo è connesso e questo ribadisco comporta dei pro e dei contro uno se vogliamo dirla tutto è l'ultima problematica che c'è stata qualche giorno fa o comunque ancora oggi un grande attacco d'os ai server di google dove poi comunque è stato i malintenzionati gli hacker sono riusciti ad accedere a dati sensibili di molti utenti ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro è una bilancia però d'altra parte mi rendo conto che questo farebbe meno rumore che avere una libertà fittizia forse perché questo nella quotidianità delle persone è un grande chi se ne frega cioè ci sono i problemi ci sono i problemi io non li vedo in prima persona quando mai magari se dovesse scoppiare una terza guerra mondiale a causa di informazioni di schemi di difesa militare rubati ormai sarebbe troppo tardi per poter dire ah cavolo potevano pensarci prima limitare certe cose mentre una libertà fittizia o comunque avere un grande firewall come può essere quello che c'è in Cina o in Corea del Nord ecco lì è un problema che intacca tutti da chi lavora nel settore a chi magari vende il pane a chiunque e quindi è di più grande interesse e fa più rumore non è detto perché dall'altra parte dell'azienda il privato potrebbe prendere il sopravvento della rete chiusa e crearti un universo interamente costruito intorno a te che è poi quello che sta succedendo con Facebook tutto lo scambio delle informazioni la vendita dell'informazione personale che Facebook ha fatto per parecchi anni l'azienda viene a creare quello di cui hai bisogno te anche sulla rete tant'è che ti isola ti crea una bolla intorno a te e tu vivi una vita che effettivamente non è tua tu hai l'impressione che le scelte siano tue ma sono scelte che ti sono indotte che sono state scelte per te sono scelte che sono state scelte per te perché l'azienda costruisce una realtà finta intorno a te appositamente per te e tu non te ne accorgi nemmeno è una cosa che esiste tuttora ed è una cosa che in Cyberpunk fa parecchio pressione su questo argomento di come le corporazioni hanno il completo controllo sulla tua vita o ben oltre quello che dovrebbe poter fare anche oltre lo stesso governo e secondo me era questo il messaggio di Cyberpunk era questo è il mondo come tutti le ambientazioni Cyberpunk sostanzialmente questo è il mondo se è il privato a prendere il controllo della vita della persona o di più di più persone è un bel messaggio inquietante però vero ti porta ad avere l'illusione della libertà esatto il fatto è che tanto queste cose le le cattura chi è effettivamente un videogiocatore cioè se prendi quell'altro che dice oh figo Cyberpunk lo vogliono tutti ci gioco anch'io oh cazzo gira male è una merda quindi alla fine purtroppo c'è il 90% delle persone hanno reagito così adesso però e poi invece c'è chi magari gli piace effettivamente il gioco ci sta giocando dice sì ok non va alla grande di ottimizzazione ci sono sti bug ma cazzo mi è piaciuto mi sono divertito ho un forte messaggio ci ho catturato tanto e gli è piaciuto però il problema è che per molti che lo capiscono c'è sempre un grande menefreghismo cioè la cosa entra figo ok facciamo attenzione però poi finisce lì cioè ora Cyberpunk come diceva anche prima Devil non è il gioco in serie l'ambientazione Cyberpunk è un'ambientazione che già in opere artistiche esiste nel cinema nei libri nei videogiochi e questo è un argomento di cui si tratta spesso però è fine purtroppo per molti è fine a se stesso cioè quando magari suonerà il campanellino d'allarme potrebbe essere già troppo tardi purtroppo è una questione di educazione nel vivere nel mondo digitale è un mondo è una vita completamente diversa devi avere una mentalità diversa come tutto la madre quando di picco diceva non prendere la caramella dagli sconosciuti adesso ti devo dire non cliccare sullo spam degli sconosciuti è la stessa logica è un altro mondo parallelo perché d'altronde internet è questo è la realtà ma è un parallelo digitalizzato creato interamente da noi e questo comporta anche la creazione di nuovi dischi nuove mentalità e anche un modo completamente diverso di ragionare spesso chi non conosce questo mondo perché magari non è interessato non è coinvolto direttamente per esempio io e te siamo due tecnici lo facciamo io lo faccio per lavoro tu lo stai studiando l'ho studiato anche io Cooper è un videogiocatore vive su internet lavora su internet quindi devi conoscerle queste cose ma se vado da mia madre gli dico Facebook ti ruba a data di nascita quella fa ma chi se ne frega non lo sai che la data di nascita poi è quella stessa che ti serve per fare recupero password dell'email di Hotmail per esempio sono queste piccole cose l'uso responsabile di internet comincia a essere un intero nuovo campo e la sicurezza informatica che poi è il campo in cui lavoro io come il DDoS il DDoS è molto elementare molto semplice è più difficile avere l'hardware alla fine del discorso cioè infettare tante macchine per attaccare poi un singolo endpoint si chiara una botnet che puoi effettuare il DDoS talmente semplice che però funziona la maggior parte delle volte ma dipende anche da quante cioè è un fucile si si fa più muro e speri che dall'altra parte sei un proiettile grosso sei una botnet enorme e butti giù qualsiasi cosa però alla fine è quella che funziona sempre ragazzi sempre la sicurezza informatica nel 2020 è diventata non più evito questioni tecniche l'andare a trovare la vulnerabilità ma è andare a trovare la vulnerabilità nella mente di qualcuno all'interno dell'azienda da cui poi muoversi a livello tecnico all'interno dell'azienda cioè adesso il punto di attacco il ventore vettore di entrata non è più il software è l'umano perché è l'umano quello vulnerabile così come so perché lo scriviamo noi installi qualcosa di sbagliato nel computer dell'azienda ed ecco che un hacker è connesso tramite una backdoor alla rete e questo Cyberpunk lo fa presente proprio perché stavamo parlando di questa cosa con i pezzi elettronici che tu metterai addosso questi sono hackerabili e tu diventi un netrunner dal momento in cui approcci questa metodologia questa mentalità e questa voglio dire una cosa su questa cosa del virus eccetera che c'è una missione secondaria che che te devi andare a recuperare un un organo per una persona malata quindi prendi quest'organo succedono cose se te tramite le tue decisioni ti raggiostri bene ti viene detto che questo organo aveva un virus e quindi poi ti dà la roba da inserirci per togliere il virus capito anche ste cose ti prendi un rene ma il bene c'ha il virus non è come un virus diciamo analogico ma è una cosa digitale esatto tu pensa se sei all'ospedale fai un trapianto ed esce fuori che il nuovo fegato c'aveva un trojan e tu da questo momento in poi quello che guardi ascolti e vedi l'ho detto già vedi però va bene quello che vedi ascolti pensi potrebbe diventare la proprietà di qualcun'altro è una cosa che mi spaventa tantissimo è molto inquietante e lì ci sarà un nuovo mondo per attaccare le persone le aziende e qualsiasi altra cosa a quel punto la privacy diventa inesistente ti vai a cambiare essendo del lavoro ed essendo in questo campo io non ho nemmeno idea di come potremmo prevenire cioè dopo diventa terrorismo psicologico devi star là e dire non accettare chip non accettare trapianti senza antivirus non mettere nessun chip che non compri in un negozio basta è una cosa inquietante è una cosa che spaventa se uno ci riflette un attimo è anche la direzione che stiamo prendendo eh già vedremo siamo già arrivati un'ora e un quarto e io voglio far dire a Dylan quello che voleva dire all'inizio del fattore cyberpunk molto brava e umile CD Projekt molto brava e umile ah no si abbiamo poi detto prima però esatto io ho apprezzato ho apprezzato molto dell'umiltà di CD Projekt e di come ha affrontato questa questione ora io non so se magari voi avete sicuramente David Gipo sì però magari chi ci sta seguendo ha letto l'ultimo post di twitter o direttamente nel sito web di CD Projekt di cyberpunk delle scuse delle scuse che hanno chiesto che hanno fatto ai vari possessori delle copie di cyberpunk soprattutto per le console del genere io una cosa del genere non l'ho mai vista ma al di là delle scuse che sono soltanto parole non ho mai visto la voglia di un'azienda di venire incontro all'esigenza del cliente cioè a me quella frase ragazzi se avete la copia fisica ma non potete restituirla mandateci un email che vi aiutiamo noi cioè è bella è bella quindi brava CD Projekt che nonostante questo top che ha fatto per contribuire console del genere sta gestendo bene soprattutto poi hanno detto che a parte quella patch che hanno detto che uscirà tra una settimana o comunque entro una settimana entro febbraio dovrebbe più o meno raggiungere la giocabilità che loro avevano in mente quindi ottimizzazione bug eccetera perché ci saranno altre due patch enormi una a gennaio e una a febbraio e quella di febbraio comunque dovrebbe rendere il gioco molto più giocabile come loro volevano non proprio come volevano ma che si avvicina quindi ci si avvicina ci si avvicina quindi mi aspetto un'ottimizzazione assurda rispetto a ora poi sono comunque tantissimi per lavorarci che hanno molte più informazioni che diamo nome è bravo è proprio quel punto adesso che il gioco è stato giocato da tutti c'ha un feedback incredibile da parte dell'utenza che può essere d'aiuto agli sviluppatori riportate sempre i bug ragazzi fatelo sempre perché non è vero che non li leggono no li leggiamo in continuazione anche quelli con gli insulti soprattutto quelli con gli insulti ci teniamo anche l'indipo ma sai ora vado a giocare a rainbow six anzi un gioco che te ci puoi mettere mano e faccio un insulto mannaggia a luca e poi ti banno ti banniamo così che dire city project è sono un gran fan dell'azienda da da quando è uscito the witcher 1 il giorno che è uscito the witcher 1 io ho conosciuto city project che succede? sono un gran fan sono di parte purtroppo però penso che in tutti questi anni pochissime sono le aziende che effettivamente trattano le proprie opere più come un'opera d'arte in forma di videogioco perché è arte piuttosto che come un prodotto so che la mentalità del prodotto c'è ancora d'altro non è un'azienda in qualche modo deve sfamare i propri dipendenti eccetera conosco anche la polemica che è nata dal crunch che è una mentalità che purtroppo esiste ma non perché è forzata almeno nella mia esperienza non è mai stata forzata è sempre stata anche ben ritribuita ma city project ha rispetto per il lavoro dei propri dipendenti ha rispetto per le idee che creano infatti sono sempre uniche e io posso solamente augurare che continui sempre per questa strada e che non cambi mai la mentalità perché penso che la speranza del mondo videoludico o il passo tra una generazione nell'altra sarà sempre nelle mani di cproject come Valve lo faceva negli anni 90 vabbè ha fatto un mega salto cioè la Valve ha effettivamente fatto il primissimo gioco next gen effettivamente che è stato Alyx cioè quello assurdo diciamo che Alyx ok Alyx bello vorrei provarlo però ecco di Alyx ci sarebbe da dire che cavolo un gioco con i contropagli che riesce a sfruttare bene i VR è quello il discorso di Alyx è un Half-Life per carità già solo per questo ma l'ho comprato ma non è quello è che Valve come al solito esplora in tutto ciò che non è stato esplorato mentre Cyberpunk mentre Cyberpunk continua sulla lunghezza tonda del computer dell'hardware del computer delle console Valve ha detto esploriamo il VR ne hanno creato uno loro da zero e poi hanno fatto un gioco che è solo ed esclusivamente fatto dal design allo sviluppo quello l'ho giocato perché ce l'ho il VR è stata un'altra di quelle esperienze che vi raccomando unica però la mentalità è la stessa non fare mai la stessa identica cosa cercare sempre di esplorare i nuovi mondi sia nel gioco stesso sia nel modo di giocare capito yay bisogna evolvere capito yay fifa vabbè dai assassin creed ci sono 40 vabbè comunque sicuramente non sono di parte al 100% sono molto fan di cd project ma non sfegatato mi piacciono tantissimo e nemmeno sono un mega fan di cyberpunk non è perché ho la sedia sono mega fan ma solo era figa l'estetica per me è uscito un giocone nonostante i bug le cose però ci sta ormai già da tanti anni siamo nell'era che non esce mai un gioco finito cioè cyberpunk lo possiamo pensare come un early access perché tanto lo aggiornano lo aggiornano continuano ad aggiornare un gioco alla fine è completo finché non ti buttano più aggiornamenti se ti mettono aggiornamenti per sistemare delle cose significa che il gioco non è finito perché ha problemi e quindi questa ormai siamo nel siamo così tanto usciranno altri giochi che non saranno subito completi perché avranno dei problemi che poi dovranno scoprire con gli utenti e quindi poi ci saranno altri aggiornamenti fino poi ad arrivare al gioco completo no è vero che cyberpunk non è adesso per chiudere vi invito a chi magari non ha acquistato cyberpunk di hardware permettendo ovviamente per poter godere meglio dell'esperienza di acquistarlo perché è un'esperienza e non vi incazzate se non vi supera i 30 fps oppure aspettate giocatelo l'anno prossimo tanto le ottimizzazioni arriveranno da tutti poi io non so se è effettivamente così ma credo di sì quando ti danno un raccomandati per il tuo hardware per girare il gioco è basato sui 30 fps almeno perché la giocabilità di un gioco è dai 30 fps in poi già sotto no quindi se vedete nei requisiti una 1060 e quel processore significa che il gioco con quelle qualità ve lo regge almeno ai 30 perché come sulla play la giocabilità è sempre stata 30 tutti i giochi prima erano sempre 30 fps alla fine già 30 fps è giocabilissimo quindi l'idea è quella cioè i raccomandati sono i raccomandati per stare sui 30 non sui 60 come tutti quelli che si lamentano eh ma io una 1060 tutto al minimo non mi supera i 30 è per quello se ti dice che il minimo devi avere una 1060 vuol dire che ti va almeno a 30 che dire ragazzi è stato bello è stato magico anche avere un ospite come David così bello poi esatto dove lo prendete fantastico e boh che dire è stato un onore poi è stato molto interessante anche perché David ha potuto coprire certe cose che noi non sapevamo esatto per tutte le creazioni quindi è stato molto interessante spero che siano arrivati fino alla fine perché un'ora e 23 minuti che siamo qui quindi voi ragazzi tramite un commentino fateci sapere il vostro feedback intanto nessuno scrive mai niente sulla qualità del podcast e fateci sapere se l'avete giocato o no a cyberpunk come vi siete trovati se vi piace se vi fa cagare diteci la vostra e non dite merda solo perché vi gira male perché siete una merda voi esatto è perché ci sono i bug e non vi lamentate se c'è Doom Doom che vi insegue occhio a girarvi durante la notte perché potreste vedervi un ciclope rosso che vi guarda con tanto amore cazzo vi immaginate quando dormite quando dormite nel vostro appartamento vi svegliate c'è Doom Doom lì che vi osserva inquietantissimo l'ho portato nel mio appartamento è stato un po' anche nel suo letto ci vuole a doccia che doccia è grande basta non voglio sapere nient'altro ragazzi che dire la puntata uscirà mercoledì come ha detto Gipo noi ci vediamo martedì prossimo sì Gipo sì fammi vedere però che che giorno martedì prossimo è il 22 quindi sì ci sarà l'episodio ma da praticamente questo è il 5 quindi dall'episodio 7 ci saranno le live o state da Dylan come avevamo detto perché non potrò più caricare cose essendo che non va al lavoro ragazzi è stato bago è stato magico probabilmente nel prossimo episodio parleremo ancora di cyberpunk perché ci saranno ancora cose di cui parlare e vedremo magari abbiamo anche cotto che baga magari Dylan che l'ha finito e anche Devil che poi lo avrà finito da qui a una settimana per dire due volte lo finirò due volte la prossima volta che ne riparleremo anch'io io spammerò l'ultima missione per fare tutti i finali che posso fare ti fai il save prima e vedi e se cambia il finale anche in base al tuo background è lì è lì cioè praticamente ti dovrei dire ogni mia decisione e provare ogni decisione fare la stessa che ho fatto io per vedere se ti porta a uno stesso finale o qualcosa di diverso per vedere se effettivamente il background ti può cambiare chissà probabilmente non cambierà molto sì però vedremo ragazzi buona giornata a tutti è stato bello e ci vediamo siamo a puntata che deve stare dove stare nel podcast arrivederci bellissimi ciao 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 Grazie a tutti.